Io sulla legge elettorale, quindi al di fuori adesso di questo incontro, voglio ribadire una cosa, vorrei che gli italiani non pensassero che noi stiamo qui a discutere di un deputato in più o in meno, qui stiamo discutendo una roba seria che riguarda l'Italia e cioè quale garanzia di governabilità può venire fuori da una legge elettorale, oppure quale rischio di ingovernabilità possa venire fuori da una legge elettorale e quali siano i meccanismi migliori perché i cittadini possono scegliersi parlamentari, stiamo discutendo di questo. Sia chiaro, io lo ribadisco, che noi siamo, l'abbiamo dimostrato che in questi mesi, assolutamente disponibili a trovare un punto di intesa e del tutto intenzionati a superare il porcello, ma non possiamo trovarci di fronte ogni due giorni a una proposta diversa e a proposte che non tengono conto di questi due problemi basici, quindi continuiamo a discutere, continuiamo a ragionare, però vedo anche io delle difficoltà che non vengono da noi.